Che fine ha fatto Calcaterno? E la prima cosa che viene da chiedersi dopo aver visto il nuovo look di Marco Bocci, cresta biondo platino e abbigliamento da rockstar, del bello e tenebroso commissario di squadra antimafia resta ben poco Niente paura, è solo questione di copione L'attore sta girando La Banda dei Tre, un nuovo film in cui interpreta un poliziotto della narcotici infiltrato tra i spacciatori delle periferie Il settimanale Kill ha immortalato proprio sui set, e con questo trucco sembra essere a suo agio Le fan, però, lo preferisco